Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta con zucca e piselli. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Ingredienti sono pasta corta, zucca tagliata a pezzetti, dado vegetale bimbi, cipolla, latte, piselli surgelati, pomodorini tagliati in quarti, sale, pepe, noce moscata, olio, prezzemolo tritato e parmigiano grattugiato. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla e la facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Rienire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 4 minuti 120 gradi, velocità 3. Rienire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere i pisellini, la zucca, la noce moscata, il sale, il pepe, il latte ed il dado. Li facciamo cuocere per 20 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Aggiungere i pomodorini e proseguire la cottura per 5 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Nel frattempo cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente. Condire la pasta, spolverizzare con il prezzemolo tritato e il parmigiano e servire. Pasta con zucca e piselli. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!